Dormo sul divano. Tu dormirai sul tetto. A Casablanca vanno lì i mariti. Ci stanno guardando. Su, baciami. Mi avevano detto che eri bella e brava. Essere bravi in questo lavoro non è molto bello. Dopo la guerra sai dove andare? Quando la guerra sarà finita, non importa dove andrò. Siamo perfetti insieme. Vieni con me a Londra. Vieni con me e sposami. Ti amo con tutto il mio cuore. Non c'è un modo facile per dire quello che dobbiamo dire. Sospettiamo che sua moglie sia una spia tedesca. Questo è assurdo! Se non è così sarà tutto dimenticato. Ma se è una spia... ...dovrà giustiziarla con le sue stesse mani. Se non esegue il comando, sarà indicato. Tra 72 ore lo sapremo con certezza. Cos'è? Uno scherzo? Una prova. Tutto è una prova. Eri diverso con me ieri notte. Diverso? Sembravi arrabbiato. È la madre di mia figlia. Non è vero. E lo proverò. Guarda. È lei. Hai apertamente disubbidito gli ordini. Mi stai spaventando. Quando la guerra sarà finita, non importa dove andrò. Ehi, che fine ha fatto il mio bacio?